Io sono con i Modà, caro, anzi i Modà rappresentati dal cantante dei Modà, Checco Buongiorno, ciao Checco Che benché sia nato venerdì 17 di 33 anni fa Esatto Madonna, tutto insieme La sfiga non l'ha minimamente sfiorato perché oggi è qua bello contento con un pezzo che ha un successo enorme Hanno venduto quanto da quanto? Ma guarda, ieri quando siamo usciti c'erano 110.000 copie in prenotazione Eravate già più ricchi di quando siete entrati Assolutamente, esatto Ieri abbiamo scoperto, dopo che ci siamo andati i primi in classifica c'è stato un riordine di altre 30.000 Quindi siamo a 140.000 Mi puoi offrire il pranzo mi sa dopo Ma anche una cena volentierissimo Allora lui mi ha chiesto, sei informato per sapere da me dove avevo visto il festival in questi giorni E' chiaro che la curiosità poi non ha osato perché è un ragazzo educato, calabrese per metà Per metà calabrese e per metà napoletano Per metà napoletano, tifa Napoli Tifa Napoli Perché ha giocato con Maradona da bambino? Ho fatto, mio papà mi ha portato agli allenamenti di Diego nell'86 al Centro Paradiso E ho scambiato, tra virgolette, due passaggi con Diego E da lì non si è più ripreso È rimasto napoletano forever Assolutamente È difficile anche non diventarlo giocando con Maradona Lo so, lo so I napoletani ne sanno qualcosa che hanno tifato durante i mondiali per l'Argentina invece che tifare per quindi Nel 90 Sì, sì Al San Paolo Si parlava di gente con carisma, quindi appunto Maradona, dicevamo di Murigno Murigno Sono notoriamente Personalità piuttosto forti Ecco, a proposito di personalità forte, tu hai Emma con te, che tu hai voluto perché? Perché questo è un pezzo targato Modà, si sente bene? Sì, beh, sicuramente per la sua professionalità, per la sua bravura innanzitutto E non per tutte le cattivere che si sono dette in giro Vabbè, in ogni caso Quali sono le cattivere? No, le cattivere che in Modà hanno preso Emma perché ha vinto Amici e almeno la portiamo al televoto e vinciamo Ragazzi, Emma, io posso dire, è una straordinaria cantante, ha un talento straordinario, una fortissima personalità L'ha dimostrato anche domenica, scusami io da donna, voglio dire, partendo da Sanremo quando chiunque avrebbe trovato come scusa che non si muoveva di qua E ha dimostrato di avere... non mi piace dire le palle, posso dire, perché sembra che una donna per dimostrare di essere deve sembrare un uomo No, noi donne abbiamo... le donne come sempre salveranno l'Italia ed Emma è una di quelle Grande personalità, devo dire, hai ragione perfettamente, sono molto contento Mi fa piacere quando vengono sottolineate le grandi dote di questa ragazza sia umane che professionali perché lei è veramente una bellissima persona Lei ha un piglio bello tosto, sembra una di quelle donne quasi che di quelle che non si fanno certo mettere i piedi in testa Io vi faccio un grande in bocca al lupo, salutami Emma che si sta riposando Assolutamente, saluto la principessa Sono contenta che siete tutti più ricchi, siete arrivati diciamo benestanti e ve ne andate ricchi La cosa più bella è fare questo lavoro come primo lavoro e mantenersi, poi il fatto che arriva qualche soldo in più è bene Ma in modà vedrai che avranno ancora un grandissimo successo e poi pensa, che ecco, te lo ricordo nel giorno del tuo compleanno Se non avessimo fatto questo lavoro, come diceva Mastroianni, ci sarebbe toccato lavorare sul serio Esatto, infatti siamo fortunatissimi, se posso farti complimenti davanti a tutti, no, alle orecchie di tutti gli ascoltatori sei fantastico Grazie, grazie in bocca al lupo davvero, ti ferò per voi, ti ferò per voi Anche se come ti ho già detto Speriamo che vinci a Vecchioni Speriamo che vinci a Vecchioni per voi e per lui e per la vostra carriera Così non vi diranno che avete vinto per Italia Esatto Grazie a Checco dei Modà, in bocca al lupo Grazie a tutti